Anche in questa puntata tantissimo spazio dedicato a voi automobilisti. Oggi grazie ai consigli di Group Auto e Punto Pro vi parleremo di un tema un po' diverso, vi parleremo di climatizzatori. Ecco bene, anche perché tra un po' arriva l'estate, quindi sicuramente un tema che ci tocca particolarmente. A parlarci di questo oggi abbiamo il grande onore di avere Paolo Vasone, appunto direttore vendite denso. Benvenuto. Benvenuto a tutti e ai telespettatori, grazie a Riccardo e grazie a Giulia. Prima di sentire però tutti i consigli che Paolo ha da darci, io farei partire questo filmato. Una vettura efficiente garantisce il massimo rispetto per la natura e per le norme ambientali. Assicura al tuo veicolo il massimo del rendimento al minore impatto. Il mio Meccanico.pro ti spiegherà come fare. Sono Salvatore, Meccanico.pro. Quando fa freddo o fa caldo, la protagonista per un buon comfort di viaggio è l'aria condizionata. Perciò è importante che l'impianto di climatizzazione sia perfettamente efficiente. Se la vettura è utilizzata e manutenuta correttamente, una ricarica dell'aria condizionata può durare alcuni anni. Se infatti è necessario effettuare la ricarica del gas refrigerante, non tutti i meccanici vanno bene. Meglio rivolgersi ad un'officina specializzata. Nelle officine.pro effettuiamo la ricarica seguendo sempre i più elevati standard qualitativi. L'ambiente è importante. Oggi parliamo dei prodotti Denso. Fabio, mi aiuti tu? Certo. Denso è un produttore leader nel settore auto. Esatto. E nel mondo equipaggia 9 vetture su 10. Per quanto riguarda la gamma di compressori, è composta da oltre 600 codici, tutti progettati per rendere al meglio su ogni vettura, compresa la tua. La mia? Anche. Denso è sinonimo di qualità, di innovazione, soprattutto di futuro. Scegli Denso. Ti aspetto da Punto Pro. Metterci alla prova conviene. E come recita lo slogan Punto Pro, metterci alla prova conviene. È anche il caso di Denso? Penso proprio di sì. Penso proprio di sì. Denso è un'azienda molto importante, è un'azienda giapponese, però ha stabilimenti in tutto il mondo. Siamo circa 180 mila persone che lavorano in questa grande azienda e ha, come diceva lo spot precedente, veramente l'assillo e l'attenzione verso la qualità. Tutti i nostri colleghi in ogni punto del mondo pensano a qualsiasi componente, a qualsiasi sistema auto o veicolo industriale, proprio per dare la qualità massima per quanto riguarda la prestazione del prodotto sulla vettura, sul veicolo industriale, ma soprattutto per soddisfare tutti gli automobilisti. È molto, molto importante. So che Giulia ha subito una domanda da farti, però io, vedendo queste immagini, visto che noi siamo degli amanti del motorsport, vedo che anche voi siete sensibili al mondo racing. Sì, sì. Denso è veramente il numero uno e l'eccellenza anche nel racing, sia per quanto riguarda le vetture, che per quanto riguarda anche le moto. Solo un dato che penso gli appassionati sanno, abbiamo vinto l'anno scorso con la macchina con Toyota il 24 ore di Le Mans, sponsorizzata logicamente da Denso, con tutti i suoi componenti, e abbiamo vinto il campionato mondiale di rally con la Toyota Yaris e quest'anno ci riapprestiamo veramente a ricominciare il campionato per essere i numeri uno. Bene, bene. Idee chiare sia per Paolo Vasone che naturalmente per l'azienda che oggi rappresenta la Denso. Ecco, infatti, Paolo, volevo giusto chiederti qualcosa riguardo dell'azienda. Sappiamo che è divisa in differenti aree, giusto? Sì, in differenti aree Denso sviluppa con tutti i suoi tecnici tanti sistemi. Parliamo del climatizzatore, parliamo del sistema termico, parliamo degli alternatori motorini, parliamo dei componenti diesel. Veramente sono tecnici all'avanguardia. Quello che noi oggi vediamo sulle nostre vetture, sui nostri veicoli industriali, sulle moto, è qualcosa che i nostri tecnici hanno iniziato a pensare, pensa Giulia, circa 20 anni fa. Quindi noi, mentre facciamo questa intervista, in questo momento, i miei colleghi in tutto il mondo stanno sviluppando quello che sarà il futuro, quello che sarà poi il futuro del 2025 al 2030. Quindi veramente un'azienda all'avanguardia. Vogliamo invece rapprofondire il discorso sulla climatizzazione? La climatizzazione direi che siamo in piena stagione, quindi aspettiamo il grande caldo e il climatizzatore è veramente uno dei punti più importanti per le vetture, per il comfort degli automobilisti. Come diceva lo spot, è importantissima la manutenzione, come tutti gli aspetti della vettura. Viaggiare sereni, viaggiare con il comfort in macchina vuol dire sicurezza, vuol dire essere pronti per un eventuale momento di difficoltà alla guida. Quindi il climatizzatore è qualcosa che consente anche nella sicurezza e nel comfort, ma soprattutto nella manutenzione. Bisogna manutenzionarlo ogni anno, verificare la temperatura in abitacolo, ma soprattutto utilizzare prodotti originali, denso, che sono quelli montati in origine. Come diceva lo spot, 9 vetture su 10 nel mondo sono equipaggiate con prodotti denso. Ecco, al giorno d'oggi si sente tanto parlare di low cost. Denso, in questo, dove si posiziona? Eh beh, low cost è comunque un aspetto che tutti i componentisti più importanti al mondo hanno ben presente, perché comunque con tutta l'invasione di prodotti da altri continenti è un problema importante. Il consiglio che posso dare è che veramente di affidarsi sicuramente a mani esperte, a reti di officine come Fono.pro, che utilizzano solo materiali originali e equivalenti, e fare molta attenzione a quello che viene montato sulla vettura. Chiedere, chiedere al meccanico, chiedere alle traute, al carrozziere che i prodotti vengono montati per capirne di più. Internet, con tutti i nostri siti e dei maggiori componentisti, tra cui denso, aiuta a capire veramente se è un prodotto originale o comunque è un prodotto contraffatto. Purtroppo ci sono anche questi, occhio soprattutto anche alle vendite sul web, che potrebbero essere dietro a nascondere dei grossi pericoli, grosse insidie. Oggi ho la fortuna di avere uno specialista di climatizzazione come Paolo Vasone, quindi devo chiederlo per forza. A quanti gradi devo mettere il mio climatizzatore in macchina? Quando fuori ci sono 32 gradi, io poi ti dico a quanto lo metto, però in teoria a quanto andrebbe messo? Bisogna sempre verificare sicuramente la temperatura esterna e mai metterlo troppo freddo. Ci devono essere circa 6-7 gradi di differenza tra la temperatura esterna e la temperatura dell'abitacolo. perché molto spesso nel momento in cui tu lo metti a 18 gradi, a 20 gradi, la percezione è positiva, ma quando esci magari per una sosta, che fuori ce ne sono 35, rischi banalmente di crollare al tappeto perché facilmente è molto pericoloso. Sono d'attuale, a quanto lo tieni? A 16? No, io no. Fa sempre molto freddo, quindi alto. Sui 20 gradi sempre. Non sono tanti, no? Se fuori ce ne sono 25-26 va bene. Va bene, perfetto. Bene, che bella puntata. Ricordatevi ragazzi che le officine .pro vi aspettano per i ricambi originali come quelli denso. Ce ne sono 1.400 in Italia e per andare a vedere, a visionare quella più vicina a voi basta andare sul sito www.pro.it Che bella puntata. Grazie per averci dato tutte queste belle informazioni. Per oggi è tutto. Io vado a ringraziare naturalmente il nostro Paolo Vasone, direttore vendite denso. Grazie Riccardo, grazie Giulia. Buonasera a tutti i telespettatori. E la nostra Giulia Colombo. Grazie a te Enrico, è sempre un piacere essere qui. Voi ragazzi non cambiate canale, rimanete su queste frequenze. Grazie, grazie mille per averci seguito. Questo programma è stato offerto da Officine.pro, metterci alla prova. Conviene.